Benvenuti a Roma con il boss delle torte. Siamo a Roma, visiteremo i monumenti, la città. Guarda che dettagli. Meraviglioso. Andiamo. Camminare per le strade di Roma è magnifico. Mia moglie mi ha chiesto di portarla alla fontana di Trevi da quando siamo qui. Sai come funziona, no? La mano destra, dietro la spalla sinistra. Via! Qual è il tuo desiderio? Non te lo dico. Che siamo, bambini? Dimmi cosa desideri.